musica e bella a tutti raga qui è volpemod che parla oggi siamo in questo nuovo video in compagnia di genji bella ok raga in questo nuovo video vi farò vedere il nuovo completo da volpemods perché è stato aggiornato allora penso che tutti l'avrete fatto perché se non l'avete fatto troverete il video nel mio canale di come fare il completo da volpemods comunque vi farò vedere il nuovo aggiornamento allora del completo dovete andare su parti superiori poi su giacche smanicate te e me vi comprate l'ultima di pelle nera poi raga dovete andare al negozio di tatuaggi se si sbriga il mio personale per fare i tatuaggi nelle braccia che è il più vicino dov'è il più vicino dov'è è un boh qua vabbè la ciosca andiamo comunque raga vi ricordo di spolliciare di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto commentate qui sotto io fratto posso passazzini per noto vorrei dire 131 132 raga appena arriveremo ai 20 iscritti farò lo speciale farò lo speciale 20 iscritti quindi iscrivetevi iscrivetevi al canale che così farò lo speciale 20 iscritti che penso sia un mega cazzeggio che farò vabbè faremo di quanti minuti boh a meno di 20 minuti comunque raga siamo arrivati allora no ho sbagliato porta allora entriamo andiamo sui tatuaggi e mettiamo braccio sinistro e ci compriamo qual è che ho io e ci compriamo arma da no aspetta e ci compriamo arma da fianco giusto credo aspetta non so se è arma da fianco no raga vi dovete comprare ridotti all'osso nel braccio sinistro che è questo qui ridotti all'osso non è poi raga sul braccio destro vi dovrete comprare teschi e fiori e basta ah ecco io teschi e fiori aspettiamo genji ma io non me li faccio ah ok comunque raga in totale verrà così il nuovo volpe mods mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto commentate qui sotto spolliciate e bella raga ciao no stanza no stanza Grazie a tutti.